Il timing è uno dei concetti fondamentali anche per un DJ, ma se vogliamo per noi in un modo molto particolare, o meglio in un significato particolare di questo termine. Ne parliamo nel video, ma ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Il timing ne avevo accennato in un video talmente vecchio che non si può più guardare, o meglio è un po' imbarazzante, però è una questione a cui sono da sempre molto legato e di cui è bene trattare con la dovuta attenzione. Il timing è, tradotto letteralmente, la capacità di andare a tempo, ma per quanto riguarda un musicista è il modo in cui si suona sul tempo, ovvero si può andare avanti o indietro sul tempo, nel senso il click è quello, quindi il metronomo ti dà il tempo preciso della battuta. Però si può suonare leggermente avanti, quindi tirando in avanti il groove, oppure leggermente indietro, in una maniera che sembra quasi più lenta, comunque molto rilassata, che però dà un accento diverso a tutto il ritmo della traccia o del modo di suonare. Il primo significato del timing è legato al modo di suonare, però questo per noi DJ ha forse poco senso, cioè non è che diamo un accento diverso nel mixare o comunque nell'accelerare o decelerare le tracce, ecco non è questo il senso. In realtà il timing è un concetto molto importante per quanto riguarda un'attività. In quel vecchio video che avevo citato, e questo lo rimetto comunque in descrizione, il timing era considerato come la principale chiave di successo o meno per un'impresa. Si parlava di un TED Talk, quindi una conferenza, nel quale c'era un personaggio che viene fuori da uno dei principali incubatori di imprese al mondo, nel quale analizzava i risultati di anni di lavoro e di investimenti, sia di successo che fallimentari. In base ad un'idea, a un budget, a un team di lavoro e il modo in cui questa viene realizzata, il fatto che sia il momento giusto o meno, non solo è importante ma è la cosa più fondamentale di tutto. Un esempio principale, viene fatto da questo punto di vista, è Netflix. Netflix, invece di essere il colosso che è adesso, ha rischiato di non esistere proprio, perché l'idea che avevano avuto di rendere lo streaming di serie tv e film disponibile per tutti, era troppo veneristica, perché allora nel 2012 le connessioni non consentivano di poter vedere sul momento un film, comunque dei video di qualità molto alta. hanno dovuto aspettare molti anni e riuscire a tenersi in piedi con la loro vecchia attività di noleggio di DVD per poter riuscire a realizzare questa loro idea, che sarebbe potuta tranquillamente cadere nel vuoto. Così come sempre legato al mercato dei video e dei film, Blockbuster, da essere un colosso, da rischiare di poter acquistare Netflix, è crollata completamente, fallita nel giro di pochi anni e completamente sparita dalla circolazione, perché non hanno individuato il cambiamento che stava avvenendo nel mercato dell'home video e dei noleggi. E allora parlando di musica di produzione, dobbiamo interrogarci sul timing di quello che stiamo facendo, ovvero se le nostre idee produttive sono attuali, guardano in avanti o indietro. Nessuna delle tre è una soluzione sbagliata, quantomeno di per sé. Fare quello che si sta facendo adesso può essere un modo per tenersi in piedi, tenersi a galla. Non sei innovativo, non sei di moda perché la moda sta già passando, però sei attuale. E allora non c'è niente di male in questo. Coloro che riescono ad individuare invece i trend che saranno nel futuro, hanno un vantaggio enorme. Pensa a chi si è iscritto su YouTube dieci anni fa e sta facendo video da dieci anni, magari con costanza e continuità. E' sicuramente avvantaggiato, anche rispetto a me, che ho iniziato comunque in un periodo molto più saturo. Era avvantaggiato perché dieci anni fa c'erano molti meno video innanzitutto, c'erano molte visualizzazioni di per sé. Qualsiasi brano che mettevi riusciva ad avere un buon numero di visualizzazioni così senza dover fare niente. Adesso invece ti devi impegnare, devi essere molto costante. Ma non significa che iniziare oggi a fare video su YouTube sia sbagliato, anzi. La differenza la fa nell'impegno costante nel riuscire a mantenersi nel tempo e riuscire a farsi il proprio pubblico piano piano. Oppure viene in mente chi si dedica al social del momento. Ora tutti è il momento di Instagram. Beh, molto probabilmente il tempo di Instagram è già passato. Adesso vediamo soltanto i risultati di chi ha lavorato bene un po' di tempo fa. E chi cerca di agganciarsi adesso al carro fa un po' fatica, anche perché presto aumenteranno i costi. E sarà forse opportuno spostarsi da qualche altra parte. Riuscire ad individuare la tendenza successiva, fare oggi il genere che andrà di moda domani, che sarà suonato domani. Proporlo nelle serate o proporlo attraverso i propri dischi. Questo significa essere avanti sul tempo. Oppure guardare indietro. Pensa ai primi che hanno ritirato fuori i suoni di tastiera degli anni 90 o la 808. Hanno ripescato indietro per creare dei suoni avanti, diciamo così. Così come il continuo andare a ripescare, questa è un'attività che noi già abbiamo sempre fatto. Però andare a pescare quel periodo che non è proprio sotto gli occhi di tutti e riuscire a creare qualcosa di nuovo, andando anche molto indietro. Oppure semplicemente fare quello che si faceva un bel po' di anni fa, aspettando che ritorni di moda, aspettando che ritorni il ciclo del quale un genere, uno stile, da essere sulla cresta dell'onda, viene di nuovo, tra virgolette, dimenticato, ma poi ricomincia ad essere ascoltato anche perché si aggiunge e raggiunge dei pubblici nuovi. E allora anche guardare indietro può essere un buon modo per portarsi avanti. In definitiva bisogna aver ben presente quello che sta succedendo oggi attualmente, aver ben presente quello che potrebbe succedere o quantomeno provarci e aver ben presente allo stesso tempo quello che è stato, in modo tale da poter andare a ripescare anche le cose che sembrano dimenticate ma potrebbero ritornare in auge. Fammi sapere come la pensi e come la vivi questo aspetto del timing e comunque delle tendenze. Fammi sapere nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Sì.